Si chiama Gekiume Onfroy ed è il figlio nato da XXXTentation, il famosissimo rapper che purtroppo è deceduto, è morto, è passato a miglior vita nel giugno scorso. Pensate che è nato finalmente l'amato figlio ma ovviamente senza il padre, senza il papà, si trova quindi da solo a vivere un'esistenza o per meglio dire in compagnia dell'amata mamma che per fortuna è ancora viva ma non ha, ripeto, il papà morto nel giugno passato, nel giugno scorso. Insomma per quanto riguarda la persona in questione XXXTentation è stato un personaggio rapper molto famoso nel mondo, non solo nel suo paese d'origine, infatti ha cantato in maniera igreggia, in maniera spettacolare il rap quindi è stato, diciamo così, un personaggio piuttosto famoso, piuttosto noto, non solo nel suo paese di nascita, ripeto, ma anche negli altri paesi di questo nostro pianeta, la Terra, terzo in ordine di distanza dal Sole. Vi ringrazio per l'ascolto, esimi utenti di YouTube, iscrivetevi se vi va, commentate, datemi la vostra opinione e al prossimo video da Naratore Italiano. Grazie